Le cavallette, me l'avete chiesto in centomila, centomila persone mi hanno detto concentriamoci, guardate il barattolo, c'è scritto in ago, orani, sono cavallette giapponesi caramellate, a te, a te, a te, a te, caramellate. E adesso le andrò a mangiare per voi, andiamo ad aprire il barattolo insieme, piano, piano. Prima però mi dovete promettere di mettere i like e di condividere questo video, decidete voi a quanti like deve arrivare questo video, però se arriva ad un numero di like sufficientemente alto, io vi prometto che mangerò il sushi di te, te. Sicuramente qualcuno dirà, eh ma Marco ci avevi promesso anche la lingua di coccodrillo che non hai più mangiato. E' arrivata la lingua con la pelle ancora attaccata, quindi ho quello che prometto sempre. Adesso tocca a voi però spolliciare e condividere per questa mangiata di cavallette spettacularis, Pularis, Pularis, per vedere come sono queste cose terribili, pili, 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 pili. Siete pronti con me ad aprire il barattolo? Te, te, giapponesi. Io so come andrà a finire questo video, vi giuro, non so come andrà a finire, io vado, eh, 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 guardate, non lo so, 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 però io vado, vado, apro questo per voi, me l'avete chiesto in tantissimi, simi, 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 apriamolo, piano piano, 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 oddio, si sta aprendo. Siete pronti con me? Siete pronti con me? Uno, tre, quattro. Oddio, c'è questo qui che sia? Questo è per tenere l'umidità via, e guardate, e qualcuno dice, no ma Marco, ma questo è il cibo del futuro, gli insetti. Il cibo del futuro, il cibo del futuro, il cibo del futuro, ma se questo è il cibo del futuro, a me, datemi le melanzane alla parmigiana. Ma no, gli insetti, no, 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 le cavallette le cavallette adesso l'abbiamo già aperto l'avevo richiuso guardatele l'ho nascosta l'ho nascosta ma no allora ditemi voi allora mangiare le cavallette si o no? adesso le mangiamo insieme guardate cavalletta prima di mangiare la cavalletta bisogna fare il rito propiziatorio dire la mangio per più di 20 volte la mangio 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 la mangiata ce l'ho fatta l'altra cavalletta ve la faccio vedere in tempo orreale Dovete sparare il pulsante dei like perché sono stati di mangiare queste cate giapponesi per voi la prossima volta sushi di cavallette al prossimo video dal giappone